Il primo lockdown ha portato l'Italia nello smart working, un inglesismo tradotto in lavoro agile. Più banalmente in Italia significa dare la possibilità ai dipendenti di lavorare da casa. Questo in realtà non è smart working, ma semplicemente home working. Non mi dilungo ora sulla reale differenza, ma nelle note troverai un esaustivo articolo a cura di tre cani. Dagli un'occhiata. Se da una parte ci ha buttato di prepotenza nel terzo millennio, dall'altra ha portato a galla dei gravi, gravissimi problemi. Il primo riguarda senza ombra di dubbio la nostra infrastruttura telematica. Abbiamo uffici totalmente impreparati per il lavoro da remoto e velocità di navigazione imbarazzanti. Ricordiamoci che durante il lockdown YouTube e Netflix hanno disabilitato il 4K per decongestionare il traffico mondiale di dati. È sì un problema globale questo, ma che in Italia abbiamo sentito più di altri. Per 4K si intende la risoluzione del video che stai guardando. Più questa è alta e più banda verrà utilizzata. Il 4K al momento è la massima qualità disponibile. Non è un caso se l'Italia è sul fondo delle statistiche europee sulla qualità della connettività. Paesi dell'est come la Romania ci superano, e di molto anche. Bisogna però dire per completezza che la copertura reale ad esempio in Romania è diversa, non è capillare. Non ci sono però attenuanti, siamo tremendamente indietro e di certo le campagne di disinformazione non aiutano. mi riferisco ad esempio alla lotta contro il 5G. È una storia triste che si ripete ad ogni evoluzione tecnologica, ma che oggi si fa più rumorosa per via dei social. Se prima avere una connessione veloce era un vezzo per scaricare un film in pochi minuti, è sotto gli occhi di tutti che oggi non è più così. Infrastrutture veloci ed efficienti sono necessarie, indispensabili direi. E il Digital Divide in Italia esiste, non solo nel confronto europeo e mondiale. È presente anche a livello locale, meno del passato, ma ugualmente invalidante. Lo vivo sulla mia pelle. Fino al civico prima del mio c'è copertura FTTC, cioè la fibra ottica fino alla cabina di team. Dal mio civico in poi, una vecchia e lenta ADSL 7M. E il Digital Divide è proprio questo, la differenza di connessione da una zona all'altra. Un problema che in Italia esiste dal 2000, con la comparsa delle prime linee ADSL. Lo smart working ha portato alla luce però un altro enorme problema, cioè la tipicità delle partite IVA italiane. Ti parlo da un paesino di provincia dove da soli pochi mesi abbiamo scoperto le consegne a domicilio. Un paesino dove le attività rischiano di morire in assenza delle persone che si recano al lavoro e che popolano i negozi, bar e ristoranti, prima e dopo l'orario di lavoro. Ma questa problematica non riguarda solo noi abitanti di provincia. Quante attività commerciali, nelle grandi città, esistono proprio perché inserite in quartiere popolati di uffici e aziende? Lo smart working è utile e comodo. Probabilmente sarà il futuro, ma siamo pronti a pagarne il prezzo? Anche per oggi è tutto. Fammi sapere cosa ne pensi tramite i contatti che puoi trovare su tecnoriflessioni.com. Ma prima di salutarti, la citazione della settimana. Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. Nice. Ciao.